Finalmente ci siamo, la prima commissione ha deliberato questa mattina la proposta di risoluzione in tema di maggiore autonomia. L'atto andrà in aula il 19 e poi inizierà il confronto con il governo. Abbiamo fatto una proposta che riguarda materie fondamentali per la ripresa, per lo sviluppo della nostra regione. Parliamo di economia, parliamo di lavoro, parliamo di infrastrutture, parliamo di ricerca, parliamo anche di tutto quello che riguarda la sismica e la ricostruzione. Tutto questo per semplificare, meno burocrazia, maggiore autonomia della nostra regione. Noi siamo un modello, abbiamo i conti a posto e ce lo possiamo permettere. Quindi la nostra regione potrà sul tavolo del governo avere un ruolo fondamentale.